La storia dei treni che non passerebbero nel tunnel della metro ha già fatto il giro del paese. Durante un sopralluogo con la stampa cittadina e nazionale, gli ingegneri di Ansaldo e l'assessore ai trasporti calabrese hanno chiarito la questione. Il progetto infrastrutturale di quest'opera prevedeva sin dall'inizio la coesistenza di treni di vecchia generazione, quindi noi li chiamiamo tipo LTR90 in ossegue a quella che era l'originaria denominazione di questo sistema di trasporto pubblico linea tramviare rapida, quindi coesistenza di vecchi treni da 25 metri con il nuovo materiale rotabile invece da 39 metri, quindi sin dall'inizio era prevista questa coesistenza. Non solo non è possibile che Ansaldo, non è possibile che il Comune, non è possibile che il Cipe, non è possibile che il Ministero, non è possibile che tutti quanti avessero potuto approvare atti che prevedevano questo errore, infatti non è assolutamente vero. Tutti i treni passano in tutti i tunnel così come deve essere. La linea 6 della metro tornerà in funzione fra un anno collegando la mostra con Piazza San Pasquale. Nel 2020 sarà aperta anche la fermata di Piazza Municipio. Fino a quel momento saranno usati gli attuali treni lunghi 25 metri che si trovano già in rete. Nel frattempo verrà realizzato un deposito officina in via Campegna e il collegamento sotterraneo con la fermata mostra. Dal deposito di via Campegna saranno immessi in rete i nuovi treni da 39 metri che saranno progettati e realizzati nei prossimi due anni. Grazie anche al patto per la città di Napoli, all'ultima delibera Cipe, quindi grazie anche agli ottimi rapporti comune-petente governo, quest'ultimo tratto del collegamento da mostra per esempio a Campegna è stato ben finanziato, quindi a breve partiranno per esempio i lavori civili che consentiranno chiaramente di mettere, per quando arriveranno i nuovi treni, di metterli tranquillamente in galleria. La fake news anche che è circolata è che i nuovi treni non sarebbero passati attraverso un'asola, cioè un buco nel soffitto che ha portato all'epoca i vecchi treni in questa stazione provvisoria nella quale noi stiamo. Non si è mai pensato di calare i nuovi treni attraverso quest'asola. Si tratta di treni che sono stati progettati alla fine degli anni 80 quando è nata la concessione Transaldo e il Comune di Napoli, peraltro questi treni hanno circolato relativamente poco per cui sono anche giovani dal punto di vista della circolabilità e il progetto che è approvato e che attualmente stiamo eseguendo prevede anche l'installazione a bordo di questi treni di sistemi di protezione della marcia dei treni stessi che li renderà assolutamente adeguati a garantire un livello di sicurezza per il trasporto pubblico locale che sarà di eccellenza. Alla stessa stregua dei nuovi treni da 39 metri che arriveranno nel giro di un paio d'anni. Quindi da un punto di vista tecnologico i vecchi treni, perché li stiamo definendo tali ma in maniera secondo me impropria, i nuovi treni saranno assolutamente omogenei. A Napoli si lavora forse anche meglio per niente che altrove e lo posso anche dire dal basso della mia esperienza, io ho lavorato anche fuori dalla città di Napoli e a Napoli ci sono chiaramente eccellenze che sono riconosciute in tutto il mondo, ma questo mi sembra quasi inopportuno dirlo, è nello stato delle cose.